Buonasera, buonasera a tutti quanti, grazie, no effettivamente io questa sera, questa sera, se non mi tolgono questa musica di merda, porto fuori i coglioni! Cazzo vuol dire sta musica qua? Sto parlando, che cazzo di musica mette? Tu che cazzo ridi? Tu vede uno che si incazza e ride, che cazzo ridi? Capra, 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 capra ignorante, cosa ridi? Porto fuori i coglioni! Incredibile! Cosa applaudi, cosa applaudi, cosa vuoi? All'interno del fatto che io questa sera mi sento a mio agio come fra l'obbligatore negli uffici di Equitalia, perché non dovevo essere qua, io questa sera non dovevo essere qua, io questa sera dovevo essere in una cittadina qua vicino, in una cittadina piena di arte, in una cittadina piena di cultura, in una cittadina piena di monumenti, in una cittadina piena di poesia, in una cittadina piena di storia, io questa sera dovevo essere a 20 miglia. Cazzo ridi? Cosa ridi? Le capra ignoranti ridono, uno non sa che... che cazzo ne sai cosa facevo fare io a 20 miglia questa sera? Allora io questa sera a 20 miglia dovevo inaugurare un museo, un museo intitolato ad un pittore straordinario, che è vissuto nel Settecento, e sto parlando dell'Arturo Spalmafecci, un pittore straordinario... Io porto fuori i coglioni, me ne vado. Non è possibile che uno parla di arte, le capra ignoranti ridono, che cazzo ridete? Ma perché ridete? L'Arturo Spalmafecci è un pittore straordinario, un pittore poco conosciuto, ma comunque di grande talento, pensate che era soprannominato Dito Sporco... Sai cosa le dico? Io questa sera mi sento a mio agio come Cassano con un libro in mano, uguale. Cosa vuol dire? Allora, l'Arturo Spalmafecci, soprannominato Dito Sporco, era un pittore straordinario. Era un pittore che amava dipingere le tele con le dita. Per quello si chiamava Dito Sporco, non c'è un cazzo da ridere. Dito Sporco perché amava dipingere con le dita, ecco. Al contrario del suo illustre maestro, il Lino Sparasciolta... ...che amava dipingere con l'aerografo, con l'aerografo. A spruzzo. A spruzzo, esattamente. Allora, se non conoscete le opere dell'Arturo Spalmafecci, quando andate a Parigi, a farvi un viaggio a Parigi, non fate come tutte le capre ignoranti che vanno solo sulla Torre Eiffel e a Disneyland a portare i bambini, andate a vedere i musei, andate al museo Chanteclerc di Parigi e andate a vedere le opere, ad ammirare le opere dell'Arturo Spalmafecci e da Lino Sparasciolta. Tra l'altro c'è un'opera dell'Arturo Spalmafecci, detto Dito Sporco, che era inchiusa nella zona bagno. E porta il titolo di E' Finita la Carta. E' un murales. Un murales, bravissimo. Io questa sera non dovevo essere qua, io questa sera non dovevo essere qua, dovevo essere a Ventimiglia, poi mi ha chiamato l'assessore qui al turismo, ma cazzo si chiama Orengo, 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 mi sembra? Mi ha chiamato, Orango, no, come chiama? Orengo, Orengo, Orengo. Mi chiama, mi chiama, mi dice, guarda Vittorio, io ti ho chiamato perché ci tengo che tu venga a Taggia a presentare un quadro che è stato trovato in una vecchia soffitta di una casa antica e chi meglio di te può battere all'asta questo quadro. Dico, guarda, l'assessore mi creda, sono rusingato del suo invito, ma purtroppo non posso essere presente perché devo essere a Ventimiglia, quindi mi dispiace. La saluto, buon ferragosto, e butto giù la cornetta. Dopo cinque minuti mi richiama, mi vedo un nuovo luogo, dico, se l'ha dimenticato qualcosa, dico, sei pronto, mi ridica. No, niente, guarda, noi avevamo fatto una giunta, abbiamo pensato che chi meglio di lei poteva mettere all'asta questo quadro che abbiamo trovato, ho capito, ma non posso venire, non faccia la capra ignorante, non posso venire, devo essere a Ventimiglia, e butto giù il telefono. Passano cinque minuti cinque e mi richiama. Mi richiama di noi, che cazzo vuole ancora? Allora rispondi, che cosa vuoi ancora? Dici, guarda, abbiamo pensato di darle un gettone di presenza di 15.000 euro. Ma che cazzo non mi ha detto prima, scusate? Tre telefonate per dimmi se è stortato? Siccome sa che non sono insensibili ai gettoni di presenza, allora io questa sera sono venuto qua e ho potuto ammirare solo oggi questo quadro meraviglioso che è stato dipinto da un pittore che ha vissuto qui per poco tempo ad Arma di Taggia, perché è solo di passaggio, e stiamo parlando di una grande pittore che ha segnato la pittura del Novecento, stiamo parlando di Gianni Cazzomoscio, un pittore straordinario. Io questa sera mi sento a mio agio come Rosi Bindi quando va dall'estetista e si fa fare linguine, uguale. Ma continuate a guardare C'è posta per te allora, continuate a guardare Uomini e Donne, continuate a guardare Amici di Maria, che cazzo vorrei... Io sto parlando di arte, di cultura, Gianni Cazzomoscio ha dipinto un quadro sensazionale che ho potuto ammirare solo oggi, un quadro straordinario, tra l'altro Gianni Cazzomoscio era un pittore umile, pensa, era talmente umile il Cazzomoscio che quando andava alle feste di paese, dove era pieno di donne, lui entrava e diceva questa sera per tutti sono solo Gianni, pensate a quale umiltà aveva, non si faceva neanche chiamare per cognome, tu pensi? Poi scusa, ma chi è che non ha un Cazzomoscio in casa? Ecco, se siete di taggia, sicuramente un Cazzomoscio in casa ce l'avete sicuro. Se tu, la signora, si distingue perché chi ha il Cazzomoscio in casa... Sicuramente, appeso alle pareti sicuramente ci sarà. Sì, sì, sì. Ma il quadro che vi andiamo a presentare questa sera ha un titolo curioso, si intitola La vedova che pippava in bagno. Eccolo. E qui uno parla di un quadro tragico, e le capri ignoranti ridono. Ma che cosa ridete? Non c'è da ridere. Non c'è niente da ridere, è un quadro tragico. Parla di una giovane vedova che essendo rimasta prematuramente senza marito, tutte le mattine al risveglio per ricongiungersi con egli ne aspira le ceneri. Per quello che si chiama la vedova che pippava in bagno. Lo riprende. Ecco, esatto. Allora, visto che non vogliono saperne della vedova che pippava in bagno, questa sera ho fatto una scoperta che nel Novecento, siccome i pittori erano poveri, come oggi, allora cosa facevano? Si scambiavano le tele, si scambiavano le tele per dipingerle anche dalla parte opposta. Infatti, questa moda è nata in Francia, e lì è nato il primo Duble Fass, il quadro Duble Fass. Il Gianni Cazzomoscio passò la frontiera di Ventimiglia e incontrò Leonardo Minchiaritta, un altro pittore che era esiliato in Francia. E Leonardo Minchiaritta amava dipingere le maestranze. Allora fu contattato da una giovane contessa, la Patrizia Chiavavene, che gli commissionò un quadro, un quadro meraviglioso, che parla di una giovane lavandaia che era timorosa, timorosa di andare a lavare i panni al fiume perché ella non sapeva nuotare. È vero. Allora cosa faceva? Di volta in volta la faceva accompagnare dallo stagliere. Sì. Ecco, quindi ammiriamo la lavandaia timorosa. Eccola qua. E anche di fronte ai quadri tragici non possiamo esimerci da sentire delle capre ignoranti che ridono. Allora la giovane lavandaia non è più timorosa, lo vedi come ride? Perché è accompagnata dallo stagliere. E poi non ha paura perché ci sono solo 20 centimetri d'acqua. 20 centimetri dietro che la tendono a su? Ma sa cosa ne dico? Parlare di arte con queste capre ignoranti come parlare di gnocca con i chivendola. Io me ne vado. Arrivederci, grazie. Grazie.